Allora, mi presento, sono Claudio Babilani, Presidente dell'Associazione Fotografica Pascaroli, un'associazione che esiste dal 2016, dove attualmente siamo 41 associati. Sono molto contento di farne parte, tra l'altro faccio parte del direttivo, ne sono fiero, in quanto è un gruppo che è cresciuto molto bene in questo periodo, in questi anni. Allora, io faccio parte di questa associazione da un paio d'anni, sono stata attratta vedendo delle mostre fotografiche e sono contenta, molto contenta di far parte di questa associazione, perché è una grande famiglia. È un gruppo, prima che è un gruppo di fotografi, ci tengo a dire che deve essere un gruppo di amici. Ci troviamo al mercoledì a Pascarolo, dove abbiamo una sede grazie al Comune. C'è molta professionalità, ma nello stesso tempo molta umiltà da parte di tutti. Siamo tutti allo stesso livello e quindi è un'associazione che dà sempre nuovi stimoli, ha sempre molte iniziative e non ci si annoia mai. Ho sempre nuovi stimoli ed è bello confrontarsi, imparare, migliorare, passare del tempo insieme facendo fotografie in giro e tutto quanto, mostre come quella che abbiamo alle mie spalle. Abbiamo fatto dei gemellaggi anche in Italia, quindi attualmente siamo gemellati con due circoli, uno di Venezia, che si chiama Marco Polo Fotografia, ed uno di Roma, che si chiama Lucisi Imago. La fotografia diciamo che è una scusa per creare delle amicizie.